Salve, sono Paolo Bacci e vi presento questo nuovissimo Mobilvetta Van Admiral 6.5. Non guardate il colore perché il colore quest'anno la Fiat non lo farà, anche se è molto bello, però non possiamo averlo. Ora cerco di farvi capire il prodotto e la sua abitabilità e funzionalità. Questo camper, se volete vedere la scheda, cliccate in alto nella vostra destra e si aprirà la scheda Caravan Bacci. Ora andiamo a vedere questo van. Dalla parte posteriore è la parte più interessante di questo oggetto. Come vedete, questo letto è un letto saliscendi, per cui potete mettere o usare o questo grandissimo contenitore con il letto a questa altezza, oppure metterlo nelle varie altezze, esempio questo con la bicicletta che può essere a questa altezza qui, oppure moto, oppure surf, perché anche in questa altezza, così molto alto, può essere abitabile. Ora ve lo farò vedere al suo interno. Quindi guardate che voluminosità e che grande capacità di contenuto. Questi sono i ganci da poter agganciare, bici, moto e quant'altro. O tante cose sportive, in genere questo è un mezzo sportivo, uno che ha vari hobby. Ora non mi vengono, ma insomma penso che con questo contenitore ci si possa assolvere a tanti hobby. Eccomi qua, sopra il letto, in alto, sono salito con la scaletta e lo spazio sottostante è quasi il massimo del suo volume sottostante. Quindi è molto basso in questo modo. Così, essendo un 6,36 metri, si dorme per lungo. Eccomi qua. Questo vi torna a dire che è il massimo dell'altezza, quindi una e due persone e ha tantissimo volume sottostante. Qui sono i pensili, sia questo laterale, guardate com'è, bello capiente, e il suo oblò. Questo letto, quando è così alto, si può dormire solo per lungo. Quando è basso, che ora vi farò vedere, si può dormire anche per traverso. Come vi dicevo, il letto così è alto, poi si abbassa, e quindi si abbassa in relazione al contenuto, torna a dire che avete l'altezza che avete bisogno da parte sotto, e quindi in questo caso si sale bene e si può dormire sia per lungo o in tre, ma anche in quattro o per traverso. Quindi è un letto veramente grande. Ha le due finestre, destra e sinistra e lo oblò. Quindi ha un bello scambio d'aria, comprese le due finestre nelle sportelli posteriori. Quindi è veramente fresco. Qui, non è questa la posizione, ma qui c'è il frigorifero con il suo congelatore. Eccolo qua. Qui l'armadio. Questi, i vari cassetti sotto la cucina. Un, due e tre. Guardate che capacità hanno. Poi due fuochi. Un bel pensile. E poi il lavandino. Il lavandino ha questa situazione dove l'appoggio deve essere un appoggio leggero. Questo è il tagliere che può funzionare anche in questo modo. Oppure, se ci fosse bisogno di appoggiare cose pesanti, viene allungato il sportello posteriore. Quindi in questo caso ci si può mettere anche pentole con acqua bollente. Nello stesso tempo, il contenitore sotto, guardate che grandi capacità ha. Passiamo al bagno. Il bagno è un bagno grande. Tutto inlaminato, per cui tutto rivestito. Come vedete c'è un bel dente qui, per cui l'acqua è tranquillamente all'interno del bagno. Come vedete mi appoggio, sto bene. Sono un metro e ottanta, un po' cicciotto, quindi come vedete ci sto bene. Finestra e funghetto in avalto, per cui c'è anche un buon scambio d'aria. Il lavello è bello profondo e anche ha una buona larghezza. E come vedete, quindi mi ci lavo bene, tranquillamente. Per quanto riguarda la doccia, la parete del lavandino gira e eccomi qua. Quindi c'è una doccia comoda. Questo è il telefono, quindi guardate, mi lavo tranquillamente. Poi nei campi, come sapete, l'acqua ha bisogno di fare attenzione. Quindi un lieve lavare, ci si bagna, si schiude, ci si insapona, si riapre e ci leviamo il sapone. È una bella doccia con un pochissimo uso di acqua. Questo campe è quattro posti, quindi ha due fronti marcia in questa posizione qua, poi ha i due sedili in questo modo. Il tavolo ha questa ribaltina comoda, per cui si accede, se c'è da fare due chiacchiere, si può benissimo fare in questo modo. Guardate, quindi uno, due, tre, quattro bicchieri ci stanno tranquillamente. Oppure si allarga e quindi ci mangiamo. Questo può diventare, come optional, anche un singolo. Abbassando, agganciando da una parte bassa, quindi viene un letto singolo. Quindi vi aspetto per farvi vedere la nostra esposizione di van nuovi usati di camper profilati ad ottimi prezzi da un'azienda solida come la Caravan Baci. Ciao!